Come ad Avezzano, la Vastese sotto per 3-0 arriva ad un passo dal pareggio, nella tana della supercapolista del Girone, pagando però Dazio ad un primo tempo in cui il Matelica è apparso superiore, trascinato da un grande Magrassi, autore di una doppietta. Poi nella ripresa la reazione di orgoglio dei ragazzi di mister Gianluca Colavitto, che ci hanno provato fino alla fine senza però raggiungere il 3-3, che avrebbe premiato soprattutto la caparibietà di una squadra che non ha mai mollato. Per la formazione di Tiosso, il successo odierno, che vissa quello dell'andata alla Ragona, serve per avvicinare la Serie C. Il KO non cambia invece l'ottimo campionato della Vastese, che deve sì guardarsi alle spalle, ma che vede anche la seconda piazza ad un tiro di schioppo. Colavitto non cambia formazione rispetto a domenica scorsa e conferma sinistra Casciani, nonostante il ritorno di De Chiara dopo la squalifica. 11 tipo per i marchigiani, spalti gremiti al Giovanni Paolo II, con una corposa presenza nelle settore ospiti dei supporti saragonesi. Dirige in un pomeriggio tiepido e soleggiato Giordano di Novara. Al secondo minuto subito locali pericolosi, con un pallone perso dagli abruzzesi e conquistato da Magrassi, che se ne va da solo verso Camerlengo, andando però a concludere centralmente. Al quinto ancora Magrassi, pericoloso con un tiro insidioso, che il portiere della Vastese va a deviare in calcio d'angolo. Inizio prepotente dei marchigiani, che sugli sviluppi del corner vanno vicini al vantaggio, con una conclusione di poco fuori misura, di Magrassi. La squadra di Colavitto pian piano esce fuori dalla sua metà campo, ma al diciannovesimo, sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo e Angelilli di testa, a mettere alle spalle dell'incolpevole portiere ospite. La squadra abruzzese non reagisce, così la cinica capolista ne approfitta, andando a raddoppiare al ventiseiesimo dopo aver scavalcato Camerlengo in uscita e ancora Magrassi a griffare la giornata per il bomber marchigiano e la quindicesima rete stagionale. Si fa durissima per gli adriatici, che appaiono con idee annebbiate e remissivi al cospetto della prima della classe, che al trentaduesimo trova il tris e la doppietta personale, con Magrassi che con un tiro dal limite non lascia scampo al portiere adriatico e con il pallone che si infila all'angolino. Partita che sembra quasi chiusa dopo poco più di mezz'ora e che al trentaquattresimo Fiore prova a riaprire con la traversa, che va però a salvare De Maglià. Il finale di tempo poi regala un'altra emozione al quarantaseiesimo con un colpo di testa di Da Polonia che finisce fuori di pochissimo. Nella ripresa si ricomincia con Bittai al posto di De Feo e con i padroni di casa pericolosi già al primo con un tiro al lato di Gabbianelli. Al settimo si vede Leonetti per gli ospiti ma De Maglià dice no e respinge. Al decimo arriva la rete della Vastese su punizione calciata da Pizzutelli in area del Matelica, tocca con la mano Angelilli. Rigore netto assegnato da Giordano di Novara e trasformato da Fiore per il 3-1. Si rianima la squadra del presidente Bolami e continua a premere anche se al ventitresimo Magrassi di testa sfiora il poker con Camerlengo che blocca sulla linea e con i padroni di casa che chiedono la rete. Al venticinquesimo tocco in area matericese con la mano di Losicco, con la Vastese che chiede il rigore e con il fischietto piemontese che lascia proseguire. Il trascorrere dei minuti fa il gioco dei rossi di casa anche perché la Vastese pur premendo non riesce a pungere e anzi al ventinovesimo in Maroniglia salvare quasi sulla linea su conclusione di Losicco. L'ultimo quarto d'ora diventa poi palpitante visto che al trentaseiesimo Brentana terra in area Bittai. Ancora rigore, gol di Fiore che fa 3-2. Gara riapertissima con la squadra del patron Bolami che cerca di gettare il cuore oltre l'ostacolo. I biancorossi ci provano in tutti i modi anche se allo scadere Tonelli e chiamare a Camerlengo alla parata in calcio d'angolo. Poi sei lunghissimi minuti di recupero e al novantaseiesimo il colpo di testa di un soffio fuori di Stivaletta. Per la Vastese arriva la sconfitta ma la reazione della ripresa lascia bene sperare per la gara di domenica prossima in casa della Jesina.